Sabato prossimo alle 15.30 si terrà l'Assemblea straordinaria di liquidazione dell'Associazione Culturale Cadimare 2000. Sì, ci sarà un'Assemblea alle 15.30 in seconda convocazione. I soci si pronunceranno sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione Culturale Cadimare 2000 che succederà poi alla nuova prologo. Ci sarà poi un'Assemblea successiva. Chiediamo appunto agli soci di sensibilizzare appunto con la loro presenza perché c'è la necessità di avere i due terzi dell'Assemblea. Sendo un'Assemblea straordinaria si dovranno pronunciare appunto in tal senso. Quindi noi auspichiamo che tutto possa andare per il meglio in quanto in passato direttivo che si costituì nel 2000 uno dei primi impegni che si era preso era appunto quello di poi nel prosieguo di andare avanti con la prologo. Successivamente all'Assemblea straordinaria di liquidazione e in orario diverso si terrà anche l'Assemblea di Costituzione della nuova prologo, sempre con l'idea di valorizzare il territorio forse anche con una sorta di continuità. Direi di sì. Alle 17 ci sarà l'inizio dell'Assemblea costituente della prologo Cadimare e ci auguriamo insomma che la popolazione risponda e risponda in modo positivo. La prologo sarà fortemente diretta ai giovani perché crediamo e speriamo che i giovani abbiano la voglia di sostituire e di migliorare quello che è stato fatto dall'Associazione Cadimare 2000 che per Cadimare ha fatto moltissimo. Però con la prologo noi ci aspettiamo una partecipazione a 20 ragazzi di Cadimare è stata inviata una lettera personale al fine di invogliarli a iniziare un'attività che forse è un po' fuori dagli schemi ma che sicuramente gli darà a loro delle grandi soddisfazioni. Quali saranno i rapporti della nuova prologo che si costituirà tra poco e la borgata del Palio? C'è una sinergia già in essere, già negli anni passati. Ancora oggi abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione quindi fra le due realtà associative è sempre stato un ottimo rapporto. Continuiamo con maggior ragione ora. Tenevo anche a precisare un'altra cosa. Volevo ricordare due figure che sono stati tra i padri fondatori di Cadimare 2000 che sono Antonio Logli e Benito Partino che non sono più tra noi ma sono stati i portabandiera di questo progetto.